da Besseguet con Ali, con questa famosa immagine, dei famosi trampolieri, per cui ho chiesto a Pietro Ruffo se voleva partecipare a questo progetto e quindi realizzare questi vestiti per Parola Bianca. L'ispirazione è di creare una mappa, non terrestre, non le solite mappe che siamo abituati a leggere, ma una mappa del cielo, con dei simboli che da millenni riusciamo a riconoscere. Comunque li devo accorciare, ecco, parola, li devo accorciare così. È come se il vestito ci permettesse di orientarci in mezzo alle stelle. Se vieni un secondo così facciamo vedere il vestito vicino agli affreschi. Una parte in cui si vede le costellazioni con dei colori che riprendono gli affreschi del Tiepolo, cioè del Celeste, cioè del Rosso, delle Terre di Siena. Non ti stancano? Dietro il mantello diventa un cielo di notte. Quando le ballerine muovono le ali, si illumina completamente dentro la notte. Prendiamo l'energia dello spazio per tradurla poi insieme con gli strumenti che siamo abituati ad usare. C'è unico di Dior gown, e credo che è la mia preferita dressa che ho mai portato.